Siamo giunti all'ultima settimana di ottobre con alcune scadenze importanti riguardanti le scuole e il personale. Innanzitutto vi segnalo una proroga e infatti slittata al 28 ottobre la scadenza inizialmente prevista per il 21 ottobre per il PON contrasto alla povertà educativa. I progetti devono essere trasmessi entro le ore 15. Per quanto riguarda le graduatorie l'istituto dei docenti sarà possibile effettuare la scelta delle sedi trasmettendo tramite polis il modello B dal 28 ottobre all'8 novembre. L'istanza per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno deve essere invece presentata entro le ore 14 del 31 ottobre compilando online il modello A5. Infine entro il 31 ottobre devono concludersi le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado non giunti a scadenza. Arrivederci alla prossima settimana